Amici di Youtube e di Instagram, buongiorno a tutti quanti, buona domenica a tutti, buona domenica, sempre più capolisti, che grande vittoria quella di ieri, una grandissima vittoria, una vittoria veramente goduriosa contro un Bologna che volevo battere a tutti i costi, lo sapete benissimo perché ieri chiaramente una squadra come noi poteva sicuramente andare magari a Bologna anche per un bel pareggio, chi lo sa comunque una squadra che comunque Bologna sicuramente nelle ultime sei partite ha fatto vedere grandi cose, una squadra bella coesa con tantissimi interpreti ma, 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 riceve l'Inter al dall'area e nel primo tempo non vede palla, nei primi 15 minuti non passa la linea di metà campo e possiamo dire tranquillamente che anche nei 90 minuti non è mai entrata nella nostra area con grande pericolosità, tolto il tiro di Zirk Zee nel secondo tempo su una mezza cappella di Aslani che sbaglia il passaggio in uscita e poi Zirk Zee fa un tiro centrale addosso Sommer, del resto il Bologna quando è entrata in area con pericolosità, non mi ricordo altre, non veramente non mi ricordo altre occasioni, il tiro di Ferguson nel primo tempo da fuori area, basta, e invece un Inter che ha dominato e ha indirizzato subito la partita nel primo tempo con tantissime occasioni dove potevamo stare, ma, secondo me, anche 2-3-0 oggi Tiago Motta deve pregare il cielo che ieri non ha perso 3-0, visto che poi ho sentito il fenomeno, no? Io non me l'aspettavo un... sono rimasto molto deluso da Tiago Motta, devo essere sincero, vabbè, a parte potremmo chiuderla 3-0 anche con l'occasione di Sanchez su un bellissimo tacco di Carlos Augusto che ha fatto una partita monumentale per quanto è stato in campo, poi peccato per il fastidio, peccato anche per... speriamo non sia stiratura per Arnautovic e dove poi il digno davanti alla porta la mette bene sul primo parola, la mette bene sul primo parola e poi dopo ha trovato il piede di Skorupski poi l'occasione di Darmian, l'occasione di Carlos Augusto e poi l'occasione quella più ghiotta, quella di Nicolino Barella davanti alla porta su un grande pressing di Turam Tiago Motta ieri ha fatto vedere, secondo me, brutte immagini per la sportività e per il mondo del calcio un allenatore, secondo me, che si è montato la testa particolarmente un ex giocatore dell'Inter che... adesso, parliamoci chiaro, se l'Inter non l'avesse preso dal Genua l'anno prima del triplete insieme a Milito staremo parlando di un giocatore che, non lo so, adesso sarebbe a fare le reunion delle grandi leggende del Genua con 75 kg in più cioè, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un giocatore che deve ringraziare l'Inter per la carriera che ha avuto parliamoci chiaro, cioè... dopo è andato al Paris Saint Germain, è andato in nazionale pure con grandissime performance vergognose in nazionale soprattutto l'anno dell'Europia di Conte, ce lo ricordiamo quindi è sempre stato bene o male all'Inter ha fatto anche delle buone annate ma dopo ha fatto l'anno del triplete, buono dopo si è perso cioè, a parte che poi è buono vabbè, comunque, qualcosa ha fatto ma, cioè, stiamo parlando di un giocatore che deve ringraziare l'Inter per la carriera che ha avuto e anche per la carriera d'allenatore e a me vedere un giocatore come Arnautovic che si stira e non un giocatore qualsiasi un giocatore che Tiago Motta ha allenato l'anno scorso al Bologna e ha avuto come compagno di squadra all'Inter vedere, comunque, un 2x giocatore che si stira così, in quel modo per come mette le mani sul volto per come si dispera e, insomma, si preoccupa per l'infortunio la prima cosa che fa Tiago Motta è andare a chiedere subito il recupero al guardaline quando già, già da 3 minuti gli ha detto che molto probabilmente si andrebbe avanti a giocare si andrà avanti a giocare per altri 2-3 minuti che poi anche lì 2-3 minuti di cosa che nel secondo tempo non si è perso mezzo minuto è una roba vergognosa anche quella vorrei sapere come cazzo fanno i recuperi quest'anno cioè quest'anno io vorrei sapere i minuti di recupero secondo che criteri li danno perché a me vedere l'altra settimana Juve Frosinone secondo tempo non è successo niente 5 minuti di recupero dove la Juve va a segnare il 96esimo cioè di quelle cose, ragazzi ma quest'anno veramente i minuti di recupero come cazzo li danno? come cazzo li danno? cioè ieri cos'è che si è perso nel secondo tempo per dare 5-6 minuti di recupero alla fine sai nadati? cioè ragazzi allucinante veramente allucinante e veramente la prima cosa che fa è protestare col quarto uomo per il recupero ogni giocatore per terra ogni cosa faceva le sceneggiate quando vince fa no? dà le belle parole fa tanto quello no? quello che ci tiene all'Inter di qua di là però quando perde eh avete visto la vera natura di Tiago Motta quando perde? un rosicone di merda l'avete visto? quindi io non lo facevo così pagliaccio sinceramente perché comunque come persona mi è sempre stato anche non tanto non troppo antipatico adesso si capiscono tante cose perché Buffon gli ha alzato le mani nella rissa con con la Juve nel 2010 si capisce anche perché Brandao gli ha spaccato il naso con la testata quando era al Paris Saint Germain evidentemente è un grandissimo provocatore di merda e quindi spero tu vada alla Juve perché è la squadra che ti meriti perché uno così può andare solo ad allenare quelli là quindi eh questo è il tuo futuro contento tu contenti tutti comunque ieri veramente bruttissime immagini per il mondo del calcio per il mondo dello sport dello sport e della sportività perché ieri abbiamo passato veramente tutti tutti i limiti poi per non parlare della della squadra messa in campo da Tiago Motta cioè ieri insomma ieri ragazzi potevamo benissimo Pairetto poteva benissimo estrarre altri 5 o 6 cartellini per il Bologna ma anche l'arbitrage l'abbiamo visto no cioè perché Tiago Motta che faceva le sceneggiate fino dal primo al novantesimo neanche il giallo entra Klasen per una rimessa laterale che era per noi perché era per noi la rimessa laterale gli urla no all'arbitro e prende il giallo appena entrato so se secondo voi questo è un metro arbitrale giusto ma tanto ormai no Marotta League ma oggi cos'è ieri al VAR è successo qualcosa al VAR qualche rigore cos'è ieri nessuno parla quindi l'Inter vince anche senza i bisogni arbitrali no perché avete rotto i coglioni avete rotto quindi comunque un grande Bologna di Tiago Motta un grande Bologna che non ha visto palla perché ieri il Bologna a primo tempo non ha visto palla a secondo tempo non ha non so dove l'avete vista tanto sofferta sta partita pure ieri perché alla fine non ha mai attaccato con pericolosità nell'area di rigore nostra quindi invece una grande Inter un grandissimo Turam che ha legato i reparti fin quando è stato in campo un Sanchez in stato di grazia devastante ieri colpi di tacco abbiamo visto altre giocate sudamericane poi l'occasione di Sanchez è stata un'occasione all'insegna del calcio sudamericano perché tacco di Carlos Augusto bel sinistro sul primo pallo di Sanchez è stata una giocata veramente da football da calcio con la F come direbbe il grande però detto questo ci possiamo permettere il lusso ecco di far riposare Lautaro 90 minuti e vincere lo stesso nel campo più difficile del campionato perché vincere a Bologna non ci ha vinto nessuno a Bologna a parte le merde che hanno rubato i rossoneri non ci ha vinto nessuno a Bologna quindi ragazzi insomma c'è da essere fieri ancora di questi ragazzi di questo mister che ha organizzato la partita nel migliore dei modi primo tempo di assalto di grande pressing dove il Bologna non ci ha capito niente non ha capito che a che sport stavamo giocando e nel secondo tempo ha cercato di mettere la gara sulla fase di gestione riuscendoci perfettamente perché non abbiamo subito mai e anche secondo me ripeto poi questa è una è una cosa che magari la gente mi prende la per pazzo ma secondo me invece in Zaglia nel secondo tempo hanno fatto anche dei cambi apposta quindi non ha messo Lautaro come ho detto ieri per magari per recuperare qualche fallo per spezzare un po' il gioco secondo me ha messo classe in apposta per prepararsi all'assedio nel bene o nel male che ci aspetterà mercoledì contro l'Atletico Madrid perché nel bene o nel male comunque va a affrontare una squadra che vorrà a tutti i costi recuperare il risultato a tutti i costi passare il turno quindi nonostante ha perso col Cadice nonostante viene dalla undicesima sconfitta in campionato in trasferta l'Atletico Madrid in trasferta veramente ha bruttissimi record bruttissimi score però secondo me ha preparato la squadra anche in vista della gara di mercoledì questo non me lo toglierà dalla testa nessuno ma speriamo invece speriamo sia così quindi Sommer magari iniziamo con le pagelle Sommer ieri grande partita perché comunque non è stato tanto chiamato in causa ma quando è stato chiamato ha risposto presentissimo non tanto sul tiro di Zirze ma tanto sul tiro di Ferguson nel primo tempo la difesa Bissek ripeto è un peccato vederlo giocare così poco preso a 7 milioni e se gli dai continuità pensa quanto possa valere uno come Bissek un difensore totale che si alza nel momento offensivo nella fase offensiva si abbassa quando serve è un giocatore che marca anche a uomo quando vuole non è come Bastogna una marcatura più stretta rispetto al briscola mette anche il tiro di Darmian nasce da un assist di Bissek perché nasce dall'assist di Bissek è un giocatore in fase di movimento in fase di di non possesso intelligentissimo che all'età che ha alcuni milanisti di merda l'hanno paragonato a Ciao ma non paragoniamo la merda con la cioccolata assolutamente cioè noi abbiamo un signor difensore al primo anno in Italia sta facendo vedere da riserva tra l'altro sta facendo vedere di quelle cose che in pochi centrali al primo anno in Italia fanno vedere è un giocatore veramente sontuoso quando ho sentito infatti a inizio anno che lo volevano dare in prestito mi stavano girando i coglioni perché è troppo importante e comunque si rompe Pavard anche quando si era rotto Pavard nei mesi di Natale cioè l'ha sostituito senza far sentire la mancanza anche segnando due gol Bissek ha comunque segnato due gol di cui quello con Lecce importantissimo sul 1-0 che stava facendo anche la doppietta perché ha preso una traversa e segna il gol ieri decisivissimo a Bologna in un campo ostico su una palla fantastica di Bastoni veramente che mamma mia Bastoni come ho sempre detto dopo l'infortunio è rientrato in maniera veramente devastante in maniera super anche nelle marcature è più attento è meno falloso sappiamo che dal punto di vista tecnico per i piedi che ha è uno dei centrali più forti al mondo per la tecnica che ha perché un centrale con i piedi di Bastoni penso di non averlo mai visto in vita mia veramente qualità eccessa se guardo di qua è perché sto guardando Lecce e Verona non perché perché poi magari mi dicono che guardi no sto guardando guarda la tele perché ho l'1x live del Lecce quindi sto guardando la partita comunque visto che c'era un mezzo rigore per il Lecce volevo vedere ecco però quindi ieri grandissima partita del Briscola ma ieri da sottolineare il ritorno del ministro della difesa di Franceschino a Cerbi mamma che partita che ha fatto a Cerbi nulla togliere a De Vrij sicuramente che sta facendo una stagione impeccabile ma mamma mia che partita che ha fatto a Cerbi ieri con quel bellissimo intervento salvataggio di tacco su Zirgze mostruoso a Cerbi ieri veramente impenetrabile come sempre una sicurezza grandissima partita centrocampo a me ha tolto barellino gli altri mi sono piaciuti c'era l'agro ha fatto il suo a Mkhitaryan per quanto è stato in campo giustamente perché comunque sono due pedine che saranno fondamentali mercoledì è giusto ha fatto bene il mister a toglierli ma comunque solita qualità solita gestione barellino per quel gol mangiato sinceramente lì un po' un po' un po' ha peccato la prestazione poi però anche nei 90 minuti non ha fatto benissimo poi è stato tolto per per Klasen poi mi è piaciuto però Nicolino per la l'umiltà che ha avuto la consapevolezza davvero uomo nel chiedere scusa per la reazione che ha avuto con il Genoa ma sinceramente io fossi stato io lui non avrei neanche chiesto scusa perché barellino non ha niente da cui scusarsi semplicemente ha protestato sul rigore netto per l'Inter perché un intervento da killer di Frendrup che andava buttato fuori possiamo dire tranquillamente lascia perdere che io un rigore così non l'avrei mai dato ma da regolamento quello rigore sempre rigore sempre perché lo va a falciare quindi non è che è barella che ha simulato è Frendrup che l'ha falciato poi nelle proteste è stato troppo veemente a me non sembra a me sembra che nella squadra di Torino appena c'è un mezzo contatto a favore della Juve vanno a circondare l'arbitro a me sembra che però il signorino Gatti il pugile di Torino non sia mai scusato per tutti i cazzotti che ha tirato alla gente a gioco fermo a me non sembra che i gobbi si sono scusati delle robe di calciopoli quindi non vedo perché Barrellino deve scusarsi per delle proteste che poi non sono neanche stati così vementi come raccontano tutti ma evidentemente le voci anche di questi sciacalli di merda in primis tutto brutto sporco in secondis il fenomeno di Sabatini licenziato dall'Inter vorrei dirlo un'altra volta hanno destato anche insomma qualche voci dall'interno per la testa di Nicolino sicuramente quindi si è un po' sentito anche toccato da queste voci quindi davvero uomo davvero uomo a differenza invece di Sabatini e di quegli altri porci perché è un ragazzo di 26 anni da lezioni di umanità a quelli di 60 e questo deve essere umiliante per Sabatini e per Zazzaroni e per tutta la merda che gira dietro quei giornali lì quindi Barrellino davvero uomo ha chiesto scusa davvero uomo chiede scusa e quindi c'è da alzare il cappello sciopo Nicolino Barella che ieri è sceso in campo con la fascia da capitano e niente quindi grandissima dimostrazione di di signorilità interista perché noi siamo signori noi anche quando vinciamo siamo signori non siamo come quei porci insomma dell'altra sponda del naviglio che giocheranno alle 3 e voglio vedere i fenomeni con voglio vedere i fenomeni con l'Empoli comunque comunque poi esterni Carlos Augusto partita incredibile che sacrificio difensivamente ma in fase di spinta spinge tanto Carlitos attenzione perché poi un di Marco così ragazzi io vi dico quando ha quei suoi momenti Carlos Augusto ragazzi in ambe le fasi come ripeto sempre è una sicurezza e ci possiamo permettere il lusso di non mettere né Di Marco né Lautaro 90 minuti perché Di Marco non è entrato quindi però è entrato poi Dunfries al posto di Carlitos è giocato secondo me una buona partita è entrato molto bene Aslani forse è l'unico di subentrati che non mi è piaciuto per quell'errorino lì che ha fatto un po' troppa superficialità mi è piaciuto vabbè Darmian purtroppo ha fatto 90 minuti mi dispiace perché già era stremato poi nel secondo tempo meno male che a loro gli è entrato un doio il Bologna attaccava solo sulla sinistra e quindi ha consentito anche un po' di recupero sulla destra per Darmian perché se avessero attaccato sulla destra poi mi ha veramente messi male perché Darmian era cotto 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 ma del resto insomma nessun nessun problema nessuna pericolosità rischiata poi insomma Klaassen Klaassen è entrato ha toccato mezzo pallone se non sbaglio Frattesi invece grande ingresso ripeto Frattesi come ho detto anche nei video di ieri sarà importantissimo per la cavalcata per i gol per gli assist per i rigori procurati ieri prende falli prende prende punizioni prende rimesse spezza il gioco spezza il ritmo è entrato ecco Frattesi è un grande stacanovista perché lui è sia forte per le qualità che ha però se tu gli dai un compito tu la porto a termine dalla panchina Frattesi è veramente tanta roba io l'avrei messo dal primo minuto sinceramente ieri non l'avrei messo Barrellino l'avrei messo Frattesi oppure avrei fatto ripusare Mkhitaryan però comunque vabbè non ci possiamo lamentare davanti Turam abbiamo visto che quando esce comunque si sente la mancanza perché è quello che lega comunque i reparti Arnautovic non è entrato benissimo sinceramente dispiace però speriamo non sia una stiratura perché sennò veramente speriamo speriamo per quello perché cazzo si era appena ripreso adesso stava giocando bene mi dispiace veramente mi dispiace ieri va bene non è entrato bene ma comunque complice il campo qualche minchione che l'ha fischiato poi ho sentito una roba vergognosa dagli spalti ho visto il tiktok dell'Italo che saluto che all'inizio non mi stava neanche tanto simpatico poi però col tempo ho capito che comunque è un bravissimo ragazzo un tiktoker anche tra l'altro anche che fa le live sul canale dell'Inter dove ha ripreso un coglione che dava della scimmia a Dunfris e se non sbaglio questo è pure interista quello che l'ha detto se non sbaglio perché da quello che da quello che ho sentito nel video questo qua che dava della scimmia a Dunfris si è giustificato dicendo ma ha giocato male ma che cazzo vuol dire gli devi cioè vabbè a parte che lasciamo perdere perché quindi se uno sbaglia un passo ci devi dare della scimmia ma a parte quello questo era pure un interista ci rendiamo conto di che cazzo di gente gira negli stadio no questo era pure interista era questo qua e non era in curva era lì nel settore authority quelli lì quelli che c'hanno i soldi ma ci rendiamo conto no vabbè poi si sentivano pure le voci in seghi sei una merda lì da veramente spettacolo indegno a Bologna come sempre i cani ci sono tra Bologna Firenze Napoli ci sono i cani sugli spalti non sto parlando male dei fiorentini napoletani e i bolognesi e sia chiaro non sono tutti così però ci sono di certi certa gente che andrebbe veramente fatta sparire dagli stadi e niente quindi cosa vogliamo dire Sanchez è partita devastante ho visto le pagere o della non mi ricordo se era la gazzetta o il corriere che gli hanno dato 5 a Sanchez 5 perché tiene troppo la palla perché non sa cosa fare in fase di ripartenza perché sembrava un bambino sperduto e peggiore in campo ma che cazzo di mai sta gente ma che partita vede ma io non lo so grandissima partita secondo me del nino maraviglia veramente grandissima partita nello stretto come aiuta la manovra come fa salire anche Turam si sono trovati bene anche contando che avevi davanti Beukema Lokumi due centrali che fisicamente fanno la differenza sono due centrali possenti hai visto però anche che senza la manovra dal centro con gli inserimenti senza pari del nino è stato molto pericoloso ben due volte quindi in questo momento ragazzi siamo ingiocabili perché ripeto il mister da dieci e lode perché sa adattare la squadra con le proprie caratteristiche e la sa adattare in base all'avversario che vai a affrontare però non è che si va ad adattare magari se tu giochi col Napoli stai basso poi riparti no riesce ad adattare praticamente la squadra al 100% contro un avversario adatto ma senza snaturare le caratteristiche del gioco che abbiamo quindi il gioco palla a terra quindi ragazzi c'è solo da fare gli applausi al mister e tanta gente deve chiedere scusa per tutte le le cagate che ha detto da quando è arrivato fino ad adesso e soprattutto un fenomeno deve chiedere scusa a Bissek e qua sto zitto un fenomeno che fa illuminare quello che sa tutto io ve l'avevo detto il fenomeno di youtube che viene percurato da tutti nonché da sottoscritto perché è anche una persona secondo me molto maleducata per come risponde per tutte le cose che è meglio se veramente meglio se stia zitto o chieda scusa il signorino ok amala sempre sempre forza inter un bacione a tutti e ciò nel prossimo video ragazzi amala adesso testa mercoledì ci aspettano dieci finali non ha ancora fatto niente ma ce l'abbiamo tra le mani come gli ovetti di pasqua dell'inter ce l'abbiamo tra le mani forza ragazzi grazie a tutti grazie a tutti